Lo sello di Sanfrediano, chiuso da oltre 5 anni, riaprirà ad ottobre. Lo annuncia l'amministrazione comunale che spiega come in questi giorni ci sia un'accelerazione sui lavori di riqualificazione della struttura che fanno prevedere appunto una prima e parziale apertura tra pochi mesi. Sono infatti entrati nel vivo gli interventi di rinnovamento coordinati e diretti da Ristogest, l'azienda che detiene l'affidamento in concessione della struttura. È in corso di completamento la sostituzione e il restauro della prima parte di oltre 70 serramenti esterni. A breve saranno sostituite anche tutte le porte interne di ingresso alle camere, mentre nelle prossime settimane saranno montati i ponteggi su parte delle facciate lato cortile per il ripristino delle cornici in pietra delle finestre e per le pitturazioni delle facciate. Il primo step dell'apertura prevede la messa a disposizione dei primi 70 posti letto, ovvero il 50% del totale, e degli spazi comuni, mentre per l'estate 2025 l'ostello sarà operativo a pieno regime. Secondo l'assessore al turismo Remo Santini, il progetto riqualificherà l'intera area cittadina e sarà un centro nevralgico per l'accoglienza turistica di tutto il territorio.